Niente sconti, i negazionisti del covid dovranno gridare il loro slogan contro la mascherina tenendola ben indossata sul volto. Fermezza e rigore è la linea del Viminale alla vigilia delle proteste annunciate a Roma. Il capo della polizia Gabrielli scrive ai prefetti sono ammesse solo manifestazioni statiche con distanziamento sociale e mascherina su naso e bocca. L'emergenza sanitaria viene prima di tutto e se le norme vengono violate l'ordine dall'alto è di sciogliere i sit-in. Non verranno tollerate leggerezze, tantomeno provocazioni che mettano a rischio la salute pubblica. Di precedenti d'altronde ce ne sono stati, a partire da una delle prime proteste a Milano con i manifestanti che senza mascherina gridavano al complotto dalla città epicentro della pandemia. Per chi non rispetta le regole prima scatteranno le multe, poi gli allontanamenti, se non bastano tutti a casa.